La procura della Repubblica di Sulmona ha chiesto rinvio a giudizio per un 62enne residente a Castel di Sangro e imputato di maltrattamenti in famiglia. L'uomo dovrà presentarsi davanti al giudice per le udienze preliminari il prossimo 9 luglio. I fatti risalgono a 14 settembre 2020, quando, secondo procura e carabinieri, il 62enne aveva aggredito verbalmente e fisicamente la moglie convivente, colpendola ripetutamente su varie parti del corpo, cagionandole un trauma policontusivo che i medici del pronto soccorso dell'ospedale Sangrino giudicarono guaribile con una prognosi di 10 giorni. Calci, schiaffi che il marito padrone aveva sferrato alla presenza di figli minori, con tanto di umiliazioni per la moglie, la quale aveva riservato una serie di imprecazioni del tipo cattiva madre, non servi a niente. Per tale episodio fu sottoposto agli arresti domiciliari. Il 62enne è difeso dall'avvocato nel foro di Sulmona Alessandro Margiotta.